Se riesci a far innamorare i bambini di un libro, o due o tre, cominceranno a pensare che leggere è un divertimento, così forse da grandi diventeranno dei lettori. Così la pensava Roald Dahl, uno dei più grandi scrittori per bambini della storia della letteratura e autore della fabbrica di cioccolato. Con lo spazio Kids all'interno del Palazzo delle Arti di Napoli, l'amministrazione comunale apre le porte alla creatività delle associazioni con un'area interamente dedicata a laboratori, incontri e mostre per bambini e ragazzi. Mille e una storia con Nati per leggere è un ciclo di iniziative dedicate alla lettura per bambini e ragazzi da 0 a 9 anni. Al mattino l'ingresso è riservato su prenotazione alle scuole dell'infanzia e primarie e dai bambini da 0 a 3 anni per ascoltare le storie della piccola biblioteca vagabonda Pasquale Causa. Al pomeriggio le letture sono aperte a gruppi di bambini accompagnati dai genitori. Tutti gli incontri vanno prenotati mandando una mail a info.chiocciolamilleunastoria.net o telefonando al 389 915 7256. Nati per leggere è il progetto di promozione della lettura a voce alta in età precoce, promosso dal 1999 dall'alleanza tra l'Associazione Culturale Pediatri, il Centro per la Salute del Bambino e l'Associazione Italiana Biblioteche. Questa è una piccola rivoluzione, riuscire a dare uno spazio ai bambini di questa città e delle periferie di questa città, dove possono stare in uno spazio a loro riservato, fatta a misura di bambini, dove possono leggere storie insieme agli operatori, insieme alle mamme, è una piccola rivoluzione. Noi sappiamo che leggere storie ai bambini già da piccoli, già dal sesto mese, fa bene al cervello del bambino, perché attiva delle sinapsi, dei contatti nel suo cervello e più li attiva da piccoli, più rimarranno dopo. E sappiamo poi che chi legge libri già da piccolo amerà i libri, per cui da grande leggerà a sua volta e sarà un lettore abituale, leggerà ai suoi figli, quindi si innesca un meccanismo a cascata che portarà solo benefici al bambino e in futuro alla società. Il pediatri deve essere, su questo stato culturale e scientifico, deve essere la forza di questo progetto, che dica alle mamme di farlo, perché il pediatri ha una voce in questo senso autorevole. È stato fin dal principio del mio mandato che abbiamo puntato a fare del PAN un centro culturale sulla trasversalità delle arti, quindi capace di contenere più linguaggi del contemporaneo, più esperienze, più competenze. In questo senso, essendo un servizio comunale che fa capo appunto all'assessorato, con grande sforzo stiamo portando avanti una serie di attività che sono anche dei contenitori. Spazio Kids va in questa direzione, perché oltre ad essere un luogo all'interno del PAN, è un progetto di esperienze di laboratori che si susseguono, condotti da diverse associazioni che si occupano di arte e di bambini. Uno di questi è appunto in corso adesso, con Napore Maollus, ce n'è stato uno molto bello insieme a Atelier Remida Campania lo scorso dicembre. C'è stato il laboratorio con Dalisi sulle pigotte insieme all'Unicef e adesso anche un progetto sulla lettura per bambini 0-6 anni che è affidato appunto a Nati per Leggere. Sono progettualità che nascono insieme all'assessorato nel senso della progettazione e della condivisione di un obiettivo, quello di far vivere il PAN come luogo della città, aperto alle giovani generazioni, aperto ai bambini e alle famiglie. Grazie a tutti.